Signora Ministro, io vorrei invitare Mametia Furniake e Svetlana Storogenco qui con me sul palco e riprendere proprio le ultime sue parole, questo invito che ci ha fatto alla cultura della legalità. Dovendo scegliere due testimoni mi hanno colpito queste parole, sono le parole di un rapper, la forza di una nazione sta nella educazione e nel risveglio dei propri giovani e se la corruzione è l'unica strada per il successo bisogna reagire e ancora se la corruzione ti toglie la speranza esiliarsi, non emigrare eminenza, esiliarsi, questa frase è così poetica ma anche così cruda e forte, esiliarsi può diventare l'unica strada per aiutare da fuori il proprio paese. L'ha scritta questo signore che si chiama Mametia Furniake che partecipa al programma del microcredito a Senegalese da dieci anni in Italia. Allora ho pensato quando ho letto queste parole, io non lo posso invitare, non ho il potere, non è il mio mestiere a Sanremo, però queste parole meritano la camera alta e la camera alta è stata possibile questa sera e io vorrei che lui ci raccontasse, prego, vorrei che lui, lo facciamo in forma di intervista così è più veloce e più dialogica, che è la nostra testimonianza finale, vorrei che lui ci raccontasse come e perché è avvenuto in Italia. Devo salutare e ringraziare tutti questi signori che sono dentro questa sala, che non possono nominare, ho paura di sbagliare, diciamo, ognuno come lo devo chiamare, comunque è stato un onore di essere qui, veramente un onore, perché dicendo come partendo dall'Africa, dal Senegal, veni qui in Italia e so qua davanti a tutti questi autoriti diciamo d'Italia, quindi mi fa molto un grandissimo piacere. Io mi chiamo Mam Ciafrungiai, mio nome d'arte è Nigaciov, io sto qua a Napoli quasi da dieci anni, quindi la mia passione posso dire che mi ha portato fin qui, la mia passione è musica, sono un rapper, ho già fatto un disco in Senegal, posso dire che appena ho fatto successo sono andato via, quindi sono venuto qui per sviluppare, diciamo, quella che è mia passione. Quando sono arrivato qui a Napoli, per fortuna ho incontrato, diciamo, dei professionisti che hanno, posso dire, la stessa passione come me, poi crescendo con quello, poi ci sono pre dei amici africani con cui noi lavoriamo, con mio fratello SAS, One Voice Sound, con noi lavoriamo Carbon14, noi lavoriamo, insieme abbiamo montato il nostro progetto che è un istigio di registrazione, ma non si limita solo a un istigio di registrazione, ma anche per dedicare, perché parlando del rap vuol dire che chi fa il rap è un messaggero, quindi quello che dici per me deve essere una cosa importante. Quando tu parli e la gente ti sentono, quindi deve essere una cosa, al minimo, che aiuta, perché il fatto che tu prendi tutto quello tempo a scrivere, vuol dire che deve essere delle cose che dà esperienza o che dà vita, come si dice, le parole certe volte dà vita e come le parole certe volte può fare dal male. Quello che diceva adesso il ministro, questo vostro studio di registrazione è un po' arrangiato, cioè il compensato, voi lo volete, l'unica parola che lui ha difficoltà a pronunciare in Italia è insonorizzare, è per questo che fate il corso del microcredito. Insonorizzarlo, di avere il materiale giusto per lavorare, perché noi facciamo pre-educazione con i ragazzi, perché visto che noi siamo i primi di loro, quindi anche la nostra parte di responsabilità, quelle che vengono allo studio, sono italiani o africani, quelle che abbiamo come l'esperienza di vita o di carriera musicale, noi lo combiniamo con loro per farli più crescere, di prendere anche la loro responsabilità. Come si dice, quando viene una casa che non è tua, quindi deve avere un modo di adattarci a quella casa per rimanere con tranquillità e di non dare fastidio al proprietario di quella casa. Le chiedo l'ultima cosa, la nota finale. Mi dice in che modo il suo rap africano, che è un po' duro, si è inculturato e integrato con la melodia napoletana? Perché poi non è detto che l'integrazione debba passare soltanto dai testi scritti, anche la musica. È integrato perché nella musica, diciamo, nel musica rap, se parliamo di rap come definitivo, R, ritmo, A, ambienze, P come parole, con queste tre lettere, diciamo, adattarsi su ogni supporto musicale, ogni forma musicale, diciamo, la base. Quindi le parole, il ritmo, vuol dire il ritmo che integra dentro a quella musica, che dà una buona ascolta a chi l'ascolta. Grazie, ma metti a furno, non avevo mai quattro vescovi così presi da un rapper. Non lo stiamo qua in prima fila, mai così concentrato. Venga Tatiana, venga Svetlana. Grazie. Grazie.